E' stato presentato a Chieti il calendario 2022 dell'Arma dei Carabinieri, lo illustra il comandante provinciale Alceo Greco. Quest'anno qual è il tema scelto? L'Arma dei Carabinieri anche quest'anno presenta il calendario nel sorco della tradizione dei progressi anni, con particolare riferimento al tema dell'arte. Continuiamo questa tradizione che vede già nei calendari degli anni precedenti e in particolare quest'anno il calendario è arricchito anche da racconti. Si tratta di tavole di Sandro Chia, il maestro Sandro Chia, che opere di transavanguardia. Queste tavole sono arricchite dai racconti di Carlo Lucarelli, che riprendono alcuni episodi della vita dell'Arma nel corso dei nostri più di 200 anni e vi è anche un particolare accenno al fatto che per noi sono i 200 anni del nostro primo regolamento generale. Esistevamo prima dell'Unità d'Italia e già all'epoca i nostri compiti erano già ben delineati per l'ordine e la sicurezza pubblica e la tutela della popolazione. In questi anni ci si è messa anche la pandemia, quindi uno sforzo in più da parte vostra. Lo sforzo è stato assolutamente necessario per la tutela del cittadino. In questa occasione mi preme anche ricordare purtroppo i nostri caduti che abbiamo avuto nel corso di questa tragica pandemia e lo sforzo sinergico dell'Arma dei Cabini ma di tutte le istituzioni per permettere agli italiani di continuare comunque a vivere anche in sicurezza. Sassontiamo proprio l'intensità dell'essere.